Partire in estate l'operazione di digitalizzazione del servizio mensa all'ospedale di Sulmona. Le prenotazioni dei passi da distribuire ai pazienti nel nosocomio non saranno più raccolte a mano, ma si ricorrerà a palmare. Lo annuncia Agostino Cascone, rappresentante della società EP, con sede legale a Roma, che si è giudicata all'appalto per 3 milioni e mezzo di euro. Un progetto che la società aveva già indicato, rispondendo all'avviso pubblico, e che rappresenta ora una concreta soluzione a problema sollevato nei giorni scorsi dal Tribunale, dei diritti del malato e dei pazienti. L'avvio del servizio mensa è stato segnato in effetti da una serie di polemiche, soprattutto per l'erogazione dei pasti, che non sempre ha corrisposto alle esigenze e alle patologie dei pazienti. L'indagine effettuata dal TDM è riguardato serie parti ospedalieri, medicina, chirurgia, ortopedia, urologia, pediatria e ginecologia. Medici e infermieri dell'annunziata avrebbero lamentato ritardi nella consegna dei pasti, che determinano confusione e spostamenti di terapie, errori nelle ordinazioni e critiche sugli standard qualitativi del servizio. Per Cascone è tutto rientrato nella normalità. L'assegnazione dei pasti ai pazienti non riguarda la nostra società, che si occupa della preparazione degli stessi. Sul sistema organizzativo noi non possiamo intervenire, precisa rappresentante di EP, che aggiunge, sicuramente l'utilizzo del palmare potrebbe evitare ripetersi del problema. Noi l'avevamo indicato rispondendo alla gara d'appalto, come nostro progetto migliorativo. Ogni giorno all'ospedale di Sulmona vengono erogati 360 pasti, 120 colazioni, 120 pranzi, 120 cene. Il costo complessivo dei pasti giornalieri è di circa 12 euro. La nuova fisionomia del servizio propone vassoi personalizzati per ciascun paziente, carrelli speciali per mantenere costante la temperatura dei cibi, colazioni con tazze di ceramica, portate vegetariane per le diverse etnie, alimenti trasportati con mezzi elettrici nell'ottica anti-inquinamento.